Una folla di 30.000 persone ha partecipato ai funerali di Gigi Riva, mito del calcio italiano scomparso all'età di 79 anni la sera di lunedì 22 gennaio, dopo un malore. La cerimonia si è svolta a Cagliari, nella Basilica di Bonaria. Applausi all'arrivo del feretro e della squadra della città guidata dall'allenatore Claudio Ragneri. Mio padre non lo convinceva nessuno. Anche ieri se n'è andato come voleva lui. Era hombre verticale, sino alla fine anche ieri ha deciso quello che voleva fare, ha detto il figlio Nicola. E' andato via non solo un padre per noi ma una persona che era come familiare di tante persone che gli volevano bene. Grazie. 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 Grazie.